Ben trovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa dei settimanali diocesani delle Marche. Iniziamo subito, lo facciamo con Iesi sfogliando la voce della Vallesina in primo piano, il convegno catechistico del primo marzo. Cari adulti, ma quando crescete in preparazione appunto al convegno catechistico del primo marzo al centro pastorale. E sulla voce della Vallesina si parla ancora di concistoro che si è tenuto il 14 febbraio, pronti ad amare con benevolenza e senza confini. Passiamo ora a vedere ciò che riguarda proprio Iesi, la legalità del male, l'offensiva contro gli ebrei, il convegno nella giornata della memoria, la presentazione del libro del ricercatore, il professor Saverio Gentile. Unitalsi, si parla di Unitalsi, nella casa di cura Villa Iolanda, una condivisione nella speranza. E ancora sempre sulla voce della Vallesina per ciò che riguarda la Diocesi, uno spettacolo per il volontariato. Il primo marzo i ragazzi dell'Allegra Compagnia a servizio dell'Avuls. I ragazzi dell'Allegra Compagnia guidati da Giuseppe Fabrizi tornano di nuovo ad esibirsi con il musical Francesco è Vivo, che andrà in scena domenica, primo marzo alle ore 16 al teatro Maiolati Spontini. Biblioteca Petrucciana, l'interessante conferenza su Dante del professor Ciuffolotti, l'origine del cosmo da Dante a Galilei. E ancora sempre sulla voce della Vallesina, l'analisi dei dati prodotti dalla Camera di Commercio, Vallesina 2014, negativo per l'economia. E a Climarche, dal 7 marzo al Circolo di Iesi, un laboratorio per l'impegno politico. E passiamo ora all'Appennino Camerte, vediamo che cosa ci propone per questa settimana. Al via il progetto Circo Anch'io, siamo giunti a metà dell'anno scolastico, la definizione e realizzazione delle proposte inserite nel piano dell'offerta formativa nelle scuole dell'infanzia e dell'istituto comprensivo Betti sono ormai a buon punto. E ancora sempre sulla Appennino Camerte, la borsa di studio per ricercatrice Unicam, la dottoressa Chiara Garulli, dottore di ricerca all'Università di Camerino, è una delle vincitrici delle borse di studio messe in palio ogni anno dalla Fondazione Umberto Veronesi. Sempre sull'Appennino Camerte passiamo ora a Belforte del Chienti, si parla di lavori, in particolare di lavori di riqualificazione nella chiesa di San Sebastiano. Ancora il nostro Cardinale, il Monsignor Edoardo Menichelli, non sarò un principe della chiesa. Passiamo ora al restauro delle mura cittadine, oltre ai fondi concessi per la ristrutturazione della centrale idroelettrica, il Comune di Tolentino ha presentato al gruppo di azione locale Sibilla anche il progetto per il restauro della parte sud-orientale delle mura storiche. E ancora, Centrale del Ponte, finanziati i lavori e nuovi bandi a supporto dei disoccupati. Il Comune di Castelraimondo ha aderito con la delibera 154 del 12 novembre 2014 ai progetti dell'ex comunità montana inseriti delle misure di garanzia giovani per la selezione dei volontari del servizio civile regionale. E ora ci spostiamo dall'Appennino Camerte alla voce Misen, a Senigallia appunto, in primo piano 60 miliardi all'anno se ne vanno i mazzette record europeo. Sfogliamo allora la voce Misen, ha costituito un comitato all'Opera Pia Famiglie e Diritti. Il giorno 9 febbraio 2015 si sono incontrati presso la sede della Casa di Riposo Mastai Ferretti di Senigallia oltre 100 familiari degli ospiti presenti nella struttura per analizzare i problemi dell'assistenza agli anziani. E ancora si parla dell'elezione a Cardinale di Monsignor Edoardo Menichelli, il Cardinale della Carità. In questo numero la voce Misen ha ospite il periodico della Casa Circondariale Montacuto di Ancona, in primo piano parole che sanno di casa. A Mondolfo si scommette sul più classico dei giochi lo storico pallone e 2014, giorni difficili per le imprese del territorio, l'anno amaro. Il 2014 è stato amaro per il senigallese, dichiara Giacomo Cicconi Massi, segretario confartigianato Senigallia. In un anno hanno chiuso 174 aziende artigiane, 154 le iscritte, saldo negativo o meno. 20 assistenti per l'ambiente, 19 studenti della seconda est del Padovano di Senigallia hanno ricevuto l'attestato di certificazione internazionale assistente ECO Profit e proseguono gli incontri che la sezione di polizia stradale di Ancona in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale sta organizzando nelle varie scuole della provincia sull'educazione, alla legalità e alla sicurezza stradale. Uno sguardo anche alla cultura, incontri con la storia, libri e autori a Senigallia sulle vicende di oggi. Passiamo ora al quindicinale dell'Arcidioces di Ancona Osimo, presenza, ovviamente anche qui si parla di Monsignor Edoardo Menichelli Cardinale, il discorso di apertura del Papa e ancora i giorni rosso-porpore, incardinati e docili, il primo giorno rosso-porpore di Monsignor Menichelli Arcivescovo Cardinale, avete qui anche un bel reportage fotografico La diocesi di Ancona Osimo accoglie, abbraccia il suo cardinale, Monsignor Menichelli in cattedrale invita la sua chiesa ad essere lieta, coraggiosa e strana E ancora tante foto di quell'importante momento le emozioni vissute a cuore a cuore legate dal vincolo parentale la diocesi di Ancona appunto accoglie, abbraccia il suo cardinale Passiamo ora all'azione, il settimanale della diocesi di Fabriano Matelica un digiuno che alimenta, si parla appunto in primo piano della quaresima entriamo nel periodo di quaresima per la chiesa che per la chiesa è un tempo forte, che ci incammina verso la Pasqua il nostro vescovo ci ricorda le priorità di questo periodo e poi nell'editoriale si parla di meno giornali, meno liberi 200 testate, 3000 posti di lavoro di giornalisti grafici e poligrafici 300 milioni di copie in meno se governo e Parlamento non ripristineranno i contributi per l'editoria 2013 tagliati retroattivamente a bilanci già chiusi e 2014 sono questi numeri del disastro che si abbatterà sull'editoria no profit italiana con costi per lo Stato più alti del valore del fondo nel 2014 chiuse 30 testate storiche hanno perso la propria occupazione circa 800 giornalisti espulsi dal mondo del lavoro anche mille grafici e poligrafici AC Comunicazione, Mediacop, Filefish, FNFC, Articolo 21 e SIG, CGL, ANSO e USPI lanciano in questi giorni la campagna meno giornali uguale meno liberi l'inchiesta che riguarda la quaresima un tempo forte un cammino che ci conduce alla Pasqua per rifarci con cuore forte e passiamo ora alla cronaca alla fermi c'è la finanza ci si chiede l'ex plesso scolastico ormai vuoto potrebbe ospitare le fiamme gialle si ricordano ancora le foie bella memoria ed una corona di fiori siamo ora a Fabriano si parla di isole ecologiche una sperimentazione sulla raccolta differenziata nuovo test isole ecologiche con la PESA l'Accademia Chirurgica Scacchi di vetrina nazionale sul sole 24 ore e ancora a Fabriano per una scuola dell'Ugan del successo di Cenafrica mentre proseguono le iniziative di solidarietà due associazioni nel nostro territorio che si occupano di Cani una sana cultura cinofila sempre su Fabriano si parla di artisticamente i prodotti da tutto il mondo grazie ad una piattaforma di e-commerce e all'UNESCO ma le strade sono idonee e ci si chiede fanno discutere gli accessi angusti alla cittadella degli studi una breve in rilievo museo carta boom di visitatori il 2014 è stato un anno da incordiciare per il museo della carta e della filigrana di Fabriano che ha superato i 45.000 ingressi e ora uno sguardo alla pagina che riguarda gli eventi a quella che riguarda il lavoro iniziamo con gli eventi la chiesa del sacro cuore oggetto di studio Fabriano come Itaca e allo spazio lavoro il nuovo responsabile alla Veneto Banca Fabrizio More il nuovo direttore centro Italia del gruppo Veneto Banca appunto passiamo ora a Matelica è stata qui la festa si è chiuso il periodo di carnevale con un rush finale pieno di iniziative divertenti e spesso particolarmente gustose appunto potete vedere quali eventi si sono tenuti a Matelica in occasione del carnevale interrogarsi su un futuro nell'agricoltura venerdì un convegno tra prospettive potenzialità e aiuti economici al settore sempre su Matelica il capogruppo Baldini poca attenzione ai numeri della Cosmari il bilancio dei primi mesi Sassoferrato Cerreto Desi iniziamo a dare uno sguardo alla pagina che riguarda Sassoferrato si parla di teatro in particolare di un trio tutto al femminile Iva Zanicchi Corin Clary e Barbara Boucher un trio rosa al teatro Cerreto Desi quell'assalto alla stazione anche una delegazione dell'Ampi di Cerreto per ricordare Alba Cina passiamo ora alla chiesa dieci anni fa moriva il fondatore di Comunione e Liberazione a distanza di tempo la sua memoria fa crescere opere imprevedibili il carisma di Don Giussani anche qui si parla del concistoro un amore senza confini per il papa quella cardinalizia è una dignità ma non è onorifica uno sguardo veloce alla cultura Costacciaro nel sogno la storia di Maurizio Serafini scampato ad una tragedia mentre dorme immagino una località che esiste davvero terminiamo questa nostra rassegna stampa lo facciamo con il nuovo amico il settimanale di informazione delle diocesi di Pesaro Fano Urbino in primo piano una notizia proprio sul Carnevale perché l'altra faccia del Carnevale i bambini nel Pesarese si sono mascherati da tagliagole Isis in piazza e a scuola e allora leggiamo Carnevale ha chiuso i battenti in tutta la provincia lasciando una quanto mai necessaria scia di allegria e spenseratezza a Fano le magnifiche sfilate hanno richiamato decine di migliaia di spettatori così come a Pesaro Urbino e nei centri più piccoli della nostra provincia però tuttavia in mezzo ai mille colori della festa abbiamo notato anche dei punti neri alcuni bambini a Pesaro in provincia hanno scelto di travestirsi da tagliagole dell'Isis ne abbiamo contato alcune decine tra il pubblico alla sfilata del Carnevale dei ragazzi in piazza Carducci ma anche in alcune scuole della provincia e allora entriamo proprio nelle pagine del Nuovo Amico in primo piano anche qui si parla dei giornali diocesani che rischiano di scomparire l'hashtag meno giornali meno liberi al via la campagna nazionale per la riforma del settore e il pluralismo dell'informazione la pagina che riguarda la provincia e la regione si festeggiano i cento anni di vita della maestra Aldina è abbonata al Nuovo Amico da oltre mezzo secolo politica ed economia al tempo del Big Data relazione di Enrico Giovannini all'Ateneo Urbinate e invece si parla anche di un libro di Eleonora Gregori Ferri se la vita è in stato vegetativo l'amore basta la presentazione del libro di Eleonora Gregori Ferri con Mara Angela ed Elisabetta la fecondazione eterologa interroga Pesaro i Lions Club sulle nuove frontiere fra scienza medica e diritto passiamo ora a vedere che cosa ci propone l'Arcidiocesi di Pesaro l'Arcivescovo Coccia in occasione della giornata del malato in visita agli ospedali della città la vita è sempre degna di essere vissuta il teatrino intitolato Donoreste Marchionni una celebrazione nel decimo anniversario della morte e poi il corso per operatori pastorali la formazione dei catechisti Sena Fadella Pesaro sul cristianesimo in Iraq la testimonianza sarà il 28 febbraio al santuario delle Grazie alla sfilata si rivedono i parroci la 58esima edizione del carnevale dei ragazzi e poi anche qui l'inserto di Penna Libera Tutti della casa circondariale di Villa Fastigi e passiamo ora a parlare della diocese di Fano Fossombrone Cagli Pergola si parla in primo piano del rito delle ceneri inizio quaresima la sobrietà ci apre alla dimensione della gratuità in cattedrale il ritiro del clero con l'imposizione delle ceneri il vescovo in cattedrale per l'unzione degli infermi essere occhi per il cieco i piedi per lo zoppo e poi gli appuntamenti con i vari quaresimali lunedì 2 marzo lunedì 9 lunedì 16 lunedì 23 marzo nella basilica di San Paterniano e ancora uno speciale tutto dedicato agli oratori anche la nostra diocese all'appuntamento di Loreto ovvero all'incontro degli operatori pastorali degli oratori delle Marche e poi la riflessione a conclusione dell'incontro di formazione alla scuola di pace il giornalista Carl Hoffman parla di immigrazione chi è in fuga non ha protezione è solo merce arte terapia con gli alunni della Polonia al centro alzheimer Margherita di Fano e ancora il presidente regionale unità si invisita a Fano porre attenzione alle nuove povertà Ambrosini e Polverari dell'Olivetti premiate il concorso Flash in Nota l'emozione di un momento e passiamo ora all'Arcidiocesi di Urbino Urbani a Sant'Angelo in Vado in primo piano gli studenti alla Pieve di San Cassiano per un fine settimana per conoscersi e stare insieme con la cenere sul capo guardiamo al signore crocifisso risorto a quaresima tempo di preghiera digiuno e carità i rotari per l'equipo ospedaliera Oncochirurgia della Mammella un'eccellenza Urbinate ancora il viaggio tra i tesori del Duomo la sesta parte ora si parla della lunga storia della fabbrica della cattedrale Luigia Bucci ha spento 104 candeline e i 100 anni di Cesira Vitaletti successo della mostra di sculture linee di Giorgio Catani e ancora la giornata del malatto tra gli anziani dell'RSA e uno sguardo anche alle pagine che riguardano l'arte e la cultura sport il quadrante un libro di Giovanni Venturi e Maria Gianna Tiempo Loppez sulla spiritualità nelle marche il legno della croce e poi al Pedrotti l'arte pianistica di Grigori Sokolov quei miracoli inafferrabili per i pixel di un monitor per oggi è tutto la rassegna stampa termina qui noi ci vediamo la prossima settimana grazie per averci seguito e arrivederci Grazie a tutti Autore dei sovrapposti